Attenzione puntata sul tema della sicurezza nelle scuole in Molise dopo il terribile sisma che ha colpito il centro Italia. I genitori dei ragazzi a pochi giorni dalla riapertura delle scuole chiedono chiarezza. Il prossimo mercoledì 31 agosto avranno luogo le elezioni provinciali a Campobasso. Liste ricche di presenze sia a centrodestra che a centrosinistra, due liste per il candidato Battista, una per Carlone. Roulotte, acrobati, trapezisti e recinti di giraffe, zebre e tanti altri animali tra pochi giorni saranno a Termoli con il circo Orfei, circo che quest'anno non sarebbe dovuto esserci poiché lo scorso 27 gennaio il comune di Termoli aveva approvato il divieto di circhi con animali in città. Il Campobasso di Mister Novelli escluso dalla Coppa Italia dopo l'1-1 la Civita Novese vince ai rigori. Un saluto ai nostri telespettatori, ben ritrovati anche oggi con l'informazione di Molise TV. In apertura parliamo dell'attenzione puntata sul tema della sicurezza nelle scuole in Molise dopo il terribile sisma che ha colpito il centro Italia. I genitori dei ragazzi a pochi giorni dalla riapertura delle scuole chiedono chiarezza, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Il terribile sisma del centro Italia ha nuovamente acceso i riflettori sul tema della sicurezza delle scuole in Molise in caso di terremoto. In una regione a forte rischio sismico e a pochi giorni dall'apertura delle scuole, i genitori chiedono risposte certe e concrete. Le immagini della scuola crollata da matrice edificio ristrutturato nel 2012 ha riacceso le paure anche per gli istituti scolastici molisani. Nelle ore dopo il sisma del 24 agosto, percepito con chiarezza anche sulla costa molisana, sono stati effettuati sopralluoghi nelle scuole termolesi allo scopo di verificare lo stato degli edifici e se questo fosse stato modificato a causa delle scosse. In base a quanto dichiarato sembra che a seguito delle ricognizioni effettuate sia stato contestato il buono stato degli edifici anche se tali verifiche non sono e non devono essere considerati quali esami di vulnerabilità sismica degli edifici che sono ben altra cosa. L'associazione La Giusta Scuola però vuole chiarezza e pone al centro del dibattito una serie di questioni. La verifica di vulnerabilità e fini sismici ad esempio di un edificio scolastico tiene conto del comportamento della struttura principale che costituisce l'opera e di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza di elementi non strutturali e inerenti specifici rischi non desumabili dalla modellazione di calcolo. L'obbligo di sottoporre gli edifici alla verifica di sicurezza sismica si riferisce a tutti gli edifici e le opere di interesse strategico e o rilevanti in qualsiasi zona sismica si trovino indipendentemente dal fatto che il proprietario sia pubblico o privato e indipendentemente dai programmi e dai finanziamenti stabiliti a livello nazionale o regionale. In particolare ai sensi delle norme vigenti è obbligatoria la verifica mentre non lo è l'intervento. E adesso la cronaca. Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla statale Campobasso Isernia tra un motociclista proveniente dal capoluogo regionale e un Opel Zafira proveniente dalla provincia di Frosinone. Lo scontro si è verificato nei pressi del santuario di Castelpetroso. Il centauro 27enne di Oratino alla guida di una potente moto procedeva in direzione Isernia assieme ad altri motociclisti del capoluogo. Ai piedi del santuario di Castelpetroso sotto una piccola galleria vicino al bivio lo scontro tra la moto e la Zafira. L'ambulanza del 118 è giunta abbastanza presto e il trentenne Campobassano è stato subito soccorso e portato al Veneziale dove è stato ricoverato in osservazione. Cambiamo argomento. Si è svolto presso il sito archeologico di Sepino il primo appuntamento dell'iniziativa per la difesa del territorio molisano contro l'installazione di pale e oli che è argomento per il quale i comitati e le associazioni campane molisane si battono da anni. Tania Passarelli. Si è tenuto presso il sito archeologico Altilia di Sepino il primo appuntamento dell'iniziativa che ha visto mobilitarsi tutti i comitati e le associazioni campane molisane a difesa del territorio per scongiurare l'installazione di oltre 100 pale eoliche al confine con la nostra regione. La prima proposta avanzata è stata quella di investire su un'Italia più sicura programmando interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici disposti in aree a rischio, attraverso il finanziamento di 14 miliardi di euro che i cittadini pagano sulla bolletta Enel per sostenere le multinazionali dell'eolico e del fotovoltaico. Una successiva richiesta è stata poi quella di sollecitare l'approvazione delle tre proposte di legge ferme alla Camera e al Senato per l'istituzione del Parco Nazionale del Matese. I prossimi obiettivi saranno quelli di chiedere alla regione molise un intervento formale nei confronti della regione Campania, visto che le autorizzazioni rilasciate alle multinazionali sono avvisate dalla mancata convocazione delle regioni con termini alle conferenze dei servizi. Sensibilizzare dunque con una comunicazione i firmatari delle proposte di leggi e delle amministrazioni comunali, aderenti al Parco Nazionale del Matese per chiedere l'immediata approvazione al fine di scongiurare una devastazione irreversibile dei territori campani e molisani. E adesso una comunicazione di servizio. La segreteria regionale del PD Molise rende noto che ha annullato l'evento in programma oggi pomeriggio a Sesto Campano con la partecipazione del professor Roberto Dalimonte, padre dell'Italicum e presidente onorario del comitato molisano per il SIA referendum costituzionale. Dalimonte non potrà infatti partecipare per problemi di salute. Il prossimo mercoledì 31 agosto avranno luogo le elezioni provinciali a Campobasso. Liste ricche di presenze sia a centrodestra che a centrosinistra, due liste per il candidato Battista e una sola per quanto riguarda Antonio Carlone. Il servizio. Elezioni provinciali di Campobasso 2016. Due le liste presentate a sostegno del candidato del centrosinistra, il sindaco del capoluogo di regione Antonio Battista e una del centrodestra che fa capo al primo cittadino di Campochiaro, Antonio Carlone. Il prossimo mercoledì 31 agosto eleggeranno pertanto il presidente della nuova amministrazione provinciale che andrà a occupare il posto dell'uscente Rosario De Matteis dieci consiglieri scelti tra gli amministratori locali e tra i consiglieri provinciali decaduti. Con la nuova riforma delle province non ci sarà per il presidente e i consiglieri alcuna indendità economica e di funzione e di carica. Nella prima lista a sostegno di Battista denominata Cives Battista Presidente coordinata soprattutto dall'assessore regionale Nagni ci sono Orazio Civetta appartenente al Partito delle Libertà Clemente Di Placido, Antonio Columbro, Angelo Migniello, Aldo Gianfagna e Giglio Riccioni ex centrodestra sindaco di Mafalda Andrea Romano e Vincenzo Sabella. La sorpresa in questa lista è la presenza del consigliere comunale di Campobasso Alberto Tramontano che dovrà quindi cambiare posizione a Palazzo San Giorgio andando a sedere tra i banchi della maggioranza. La seconda lista è centrosinistra per Battista Presidente composta da Luigi Barbieri sindaco di San Giuliano di Puglia Ernesto Lavecchia, Giuseppe Delia, Matteo Gissi, Stefano Martino, Antonio Giuditta, Maria Rosaria Mignogna, Domenico Santorelli, Giovanni Varra e Antonio Tommassone. Il centrodestra invece sarà presente alla votazione del nuovo consiglio e presidente con una lista dal nome Provincia Unita presentata da Mario Colalillo e guidata da Antonio Carlone sindaco di Campochiaro e poi formata da Maria Laura Cancellario, Teresa Intrevado, Rosella Mammarella, Francesco Roberti, Francesco Graziano Rinaldi, Paolo Di Zinna, Antonio Saburro, Antonio Caterina e Felice Di Risio. Ci spostiamo ad Isernia perché il Comune ha pubblicato l'avviso per le domande di accesso al sostegno all'inclusione attiva. Le istanze possono essere presentate dal 2 settembre. Si tratta di aiuti economici con cadenza bimestrale alle famiglie isernine in difficoltà. Albo Pretorio pubblicato online sul sito del Comune, sostegno da concedere in relazione alla composizione dei nuclei familiari beneficiari pari ad 80 euro per ogni componente della famiglia. Da 5 componenti in poi il sussidio è di 400 euro. Ci spostiamo adesso a Termoli, scontro in Consiglio Comunale sulla sentita questione del depuratore. All'ordine del giorno la discussione che ha visto l'assenza dell'assessore all'ambiente Florio, il servizio. La questione depuratore balneazione infiamma il Consiglio Comunale Termolese fra accuse Scarica Barile che poco chiariscono chi e cosa c'è stato di sbagliato nel tormentone dell'estate termolese come l'ha definito Antonio Di Brino. E se qualcuno si aspettava un chiarimento dall'assessore all'ambiente, Finomena Florio, è rimasto deluso dato che non si è presentata all'assise di venerdì pomeriggio 26 agosto. Su di lei la comprensibile critica pressoché unanime della minoranza. Una sedia vuota, quella dell'assessore all'ambiente, che al di là di qualsiasi spiegazione ha inevitabilmente messo in imbarazzo l'intera maggioranza che ha replicato punto per punto alle critiche sulla gestione del depuratore del porto, sui lavori al sinarca e sulle abbalnazioni del lungomare, ma ha potuto fare poco per rispondere a chi chiedeva conto dell'operato della Florio. È stato l'ex sindaco Antonio Di Brino a esordire dopo aver firmato la mozione urgente che ha dato vita al movimentato consiglio di venerdì 26. È un disastro annunciato, ha detto. I lavori al sinarca dovevano essere conclusi il 30 giugno 2014 o sarebbero scattate delle penali. Ci sono stati continui annunci, l'impianto doveva essere pronto a gennaio, aprile e poi maggio. Sulla questione del depuratore del porto di Brino ha rimarcato l'odore d'ausia bondo, la macchia di colore marrone che hanno reso maleodorante l'intera città nel periodo estivo. A luglio c'è stata persino l'ordinanza di divieto di balneazione. Criticata anche la scelta di dare tre incarichi allo stesso professionista, l'ingegner Ferruccio Blardi. La regione ha rilevato che si accede il limite di 40.000 euro per gli incarichi con affidamento diretto. E voltiamo pagina. Si è tenuto in mattinata di ieri nel palazzo Marchesale di Ripa, Limosani, la conferenza di presentazione dell'evento culturale Simposio Ripa 2016. Un evento giunto alla quinta edizione, rivolto alla valorizzazione e promozione del territorio in tutte le sue forme. A dare maggiore forza alla finalità del progetto, l'edizione 2016 si avvale del patrocinio di significative istituzioni, quali FAI, Lega Ambiente, Molise e Campania, l'Istituto Italiano dei Castelli, la Federazione Mandolinistica Italiana, per citarne alcune, ed artisti partner provenienti da tutto il Molise. E voltiamo nuovamente pagina perché roulotte, acrobati, trapezisti, recinti di giraffe, zebre e tanti altri animali tra pochi giorni saranno a termoli con il circo Orfei. Un circo che quest'anno non sarebbe dovuto esserci, poiché lo scorso 27 gennaio il Comune aveva approvato il divieto di circhi con animali in città. Sentiamo di più da Tania Passarelli. Non poche polemiche si sono scaturite a seguito della decisione del Comune di Termoli di accogliere il circo Orfei dal prossimo 5 settembre. Una scelta che ha lasciato i cittadini a bocca aperta, in quanto lo scorso 27 gennaio sempre il Comune di Termoli aveva approvato il divieto di circhi con animali in città. Una decisione questa del Comune di vietare circhi che va in contrasto con la legge, in quanto quest'ultima obbliga tutti i Comuni, Termoli compreso, a individuare comunque in ogni caso uno spazio dove consentire l'attentamento dei circhi senza fare distinzioni fra circhi con animali o senza. Dunque si può fare ben poco. I circhi con animali non si possono vietare, ma solo allontanare da certi luoghi come per esempio Piazza Papa, piazza nella quale da sempre il circo Sosta. E la legge che salvaguarda attività circensi non divide quelle con animali da quelle prive di animali. Dunque il circo Orfei in arrivo a Termoli si farà, anche se in una location insolida e inidedita, poiché il terreno che accoglierà il circo, i cui addetti hanno già distribuito promozioni e omaggi, è privato, e cioè di proprietà di cittadini che sul loro terreno fanno quello che vogliono, purché nei limiti della legge. E la legge stabilisce che i circhi con animali si possono fare. L'aria si trova in via dei Pieni, in periferia e a ridorso della zona artigianale. Su questo precisa e primo cittadino purtroppo non possiamo fare nulla. E continuiamo a parlare di animali, questa volta di cani, amici a quattro zampe che d'estate vengono abbandonati dai propri padroni per via delle vacanze estive. Un fenomeno questo purtroppo in continua crescita e che in questi mesi ha fatto registrare in Molise un vero e proprio record. Quasi una trentina di cani salvati dalla strada e recuoverati nelle apposite strutture, atti di inciviltà non solo pericolosi per la salute dell'animale, ma che incidono parecchio anche sui costi per le istituzioni che operano sul territorio. E' lo Stato italiano quasi a fondo nella classifica europea dei nuovi nati, il Molise pari si omologhi allo standard nazionale. Angelica Calabrese. I dati parlano chiaro, dai 503 mila bambini nati nel 2014 ai 488 mila del 2015, ben 15 mila nati meno nello Stato italiano, che si aggiudica il minimo storico delle nascite, con otto bambini ogni mille residenti. Questo quanto diffuso dall'ISAT, che ha indicato gli indici demografici, il numero di fili medi per donne è di 1,35 al 2015, che si conferma il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità. L'età media delle donne al momento del parto è salita a 31 anni, simbolo di un mondo che è cambiato, in cui la donna vuole lavorare al pari dell'uomo e sentirsi realizzata anche fuori le quattro mora domestiche. Contestualmente però, rispetto a qualche anno fa, è aumentato anche il numero delle baby mamme, probabilmente a causa del dialogo che si è raffreddato all'interno delle famiglie, di una scarsa prevenzione o solo disattenzione. L'Italia ha così raggiunto il fondo della classifica europea per il numero di nuovi nati e il Molise si conforma alla media nazionale. Il rapporto del Censis dice che gli italiani sono consapevoli delle difficoltà di mettere al mondo un figlio. Per l'83% la crisi economica rende più difficile la scelta di averlo. Gli italiani, stando sempre all'indagine del Censis, accusano del fenomeno l'insufficienza delle politiche pubbliche a sostegno della famiglia. Il 61% degli italiani è convinto che le coppie sarebbero più propense ad avere figli se si migliorassero gli interventi pubblici. Sgravi fiscali e aiuti economici diretti sono le principali richieste. Il 67% segnala l'esigenza di potenziare le asili nido. Il 56% fa riferimento ad aiuti pubblici per sostenere i costi per l'educazione dei figli. Lo stesso rapporto indaga anche più in profondità sul concetto di famiglia e mette in luce come si sia evoluto anche oltre le aspettative. Un italiano su tre favorevole al fatto che anche le coppie omosessuali abbiano figli, mentre ancora maggiore è la quota di chi è d'accordo nel dare questa possibilità ai single. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio di serie D. Il campo basso di mister Novelli escluso dalla Coppa Italia. Dopo l'1 a 1 la Civita Novese vince ai rigori il servizio. Dopo una prima fase di studio sono gli ospiti a farsi per primi pericolosi con un tiro dal limite di Negro che sfiora il palo sinistro della porta difesa da Cotticelli. I rosso-blu iniziano a prendere le misure agli avversari e si vedono dalle parti di Vassallo al sedicesimo quando Tini calibra dalla sinistra un preciso cross per la testa di Perrella la cui conclusione viene deviata in calcio d'angolo dall'estremo difensore marchigiano. I lupi prendono coraggio, al minuto 19 vanno vicinissimi al vantaggio. Tini serve in profondità Perrella il quale vede e serve lo accorrente Sudant il cui insidioso diagonale viene deviato in corner da Vassallo. La risposta dei marchigiani è tutta in una conclusione di Negro che viene parata in due tempi non senza qualche difficoltà da Cotticelli. La prima frazione di gioco si chiude con una bella incursione sulla sinistra di Montuori che dopo aver intercettato la palla a centrocampo supera tre avversari, entra in area marchigiana e fa partire un forte tiro che viene respinto dall'attento Vassallo. La ripresa inizia con gli stessi undici del primo tempo al 49esimo Montuori colpisce con la mano un pallone vagante in aria. L'arbitro su segnalazione del secondo assistente assegna la massima punizione per la Civitanovese. Sul dischetto si porta Negro che si spiazza Cotticelli che porta in vantaggio i marchigiani. Il campo basso alla forza di reagire al 55esimo trova subito il gol del pareggio con una conclusione a mezza altezza di Voltasio che non lascia scampo all'incolpevole Vassallo. La Civitanovese però non ci sta e dopo un'appena due minuti va vicino al nuovo vantaggio con una doppia conclusione all'interno dell'area di Battisti che viene prima respinta e poi parata da Cotticelli. L'occasione più ghiotta della gara è però di marca. Ospite Barbosa si incunea nelle maglie difensive dei Lupi, calcia verso la porta ma il tiro viene intercettato da Cotticelli. Il pallone prende uno strano effetto e si impenna e interviene di nuovo Barbosa il cui colpo di testa viene deviato in angolo da Frezzi prima che la sfera svarcasse la linea di porta. Si scivola così fino al triplice fischio finale e si passa ai calci di rigore per decidere il passaggio al secondo turno. Per il campo basso vanno a segno Sudante in prota mentre sbagliano Grazioso con un palo D'Angelo che prova il cucchiaio e Voltasio che va fuori. Alla Civita Novese invece realizzano Wade, Barbosa e Rapagnani rendendo ininfluente il precedente errore di aprile. Il campo basso sul piano del gioco della preparazione atletica fa un grande passo in avanti rispetto alla prestazione vista contro l'Agnonese e il Vasso Girardi anche se è evidente la necessità di almeno un uomo per reparto per agguantare una tranquilla salvezza del campionato che inizierà il prossimo 4 settembre a Pineto. Ancora a calcio termina con la vittoria del Napoli la 32esima edizione del trofeo Shalom Tabacchi Collaril Cup. Nella rivincita della finale dello scorso anno gli azzurri di Mister Carnevale superano i giallorossi per 4 a 2 in un match spettacolare e ricco di emozioni. Nelle altre due finali la Casertana batte l'Avellino per 2 a 0 con una rete per tempo di Parma e Velotti e lascia agli Irpini il cucchiaio di legno del torneo. Splendida la cornice di pubblico offerta dal Meo Martini di Benevento che ha visto oltre mille persone assistere alla giornata finale. E dal calcio invece passiamo al mini basket. Il pre-ground del parco di San Giovanni in via Lombardia a Campobasso è pronto ad ospitare la quarta edizione del torneo 3 contro 3 parco a canestro. Il torneo di basket è organizzato dal centro mini basket della cestistica Campobasso in collaborazione come sempre con l'associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni e da quest'anno con il mini basket Cus Molise. Un'opera di restyling ai canestri, ridisegnati le linee del campo, è tutto pronto quindi per il via allegare una settimana di street basket con finali previste domenica 4 settembre. Quattro le categorie che parteciperanno Kids, Junior, Teenager e Pink. E questa era l'ultima notizia, grazie come sempre per la vostra attenzione. Io vi do appuntamento alle prossime edizioni del Telegiornale lasciandovi al meteo. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per martedì 30 agosto. L'anticiclone inizia a indebolirsi per un fronte atlantico attivo al centro nord, ma che tende a lambire anche le regioni medidionali. Ancora bel tempo prevalente, salvo qualche isolato temporale entro il pomeriggio sul Molise interno. Venti deboli variabili con rinforzi di brezza lungo le coste, mari poco mossi. Temperature in lieve calo sul Molise, stabili o in lieve calo nei massimi, altrove con clima caldo e anche più affoso. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minimo a 19, massimo a 29 gradi. Isernia minimo a 17, massimo a 21 gradi. Termoli, temperature comprese tra 24 e 28 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconsegli assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.